Possibile svolta nei colloqui sulla Brexit è l'informazione che trapela a margine dell'incontro dei ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti in Lussemburgo. Il caponegoziatore europeo Michel Barnier ritiene che Bruxelles e Londra possano raggiungere un accordo entro questa settimana, dopo che il Regno Unito ha espresso la volontà di scendere a compromessi. Anche se l'accordo sarà difficile ed è sempre più difficile ad essere franco, pensiamo che sia ancora possibile raggiungerlo questa settimana. Ovviamente deve essere un accordo che funziona per tutti, per il Regno Unito e per l'Unione Europea. Vorrei aggiungere anche che è giunto il momento di trasformare le buone intenzioni in un testo con valore giuridico. I media irlandesi avevano alimentato la speranza in un accordo, affermando che il Regno Unito presenterà nuove proposte a seguito dei colloqui tra Boris Johnson e il DUP. Il premier britannico ha bisogno infatti del sostegno del partito dell'Irlanda del Nord per far sì che la sua proposta ottenga il via libera del Parlamento. La Camera dei Comuni aveva precedentemente bloccato l'accordo sulla Brexit di Theresa May.